Non affronto minimamente i temi su cosa sia la gestione del rischio, l'analisi del rischio e tutto ciò che è connesso a questi concetti la cui conoscenza è fondamentale per capire quello che stiamo facendo perché abbiamo il professore Inna che non lascio il campo nella maniera più assoluta però credo che sia importante anche per la migliore comprensione dell'intervento del professore fornire a tutti noi un aggiornamento su quello che è stato fatto in ordine all'integrazione del piano anticorruzione e delle azioni che sono state fatte in un'ottica di prevenzione, di individuazione e adozione misure per la prevenzione del rischio corruttivo in questo ente. La raccomandazione che era già contenuta nella 150 era quella diretta a una forte e chiara integrazione del piano della performance con il piano anticorruzione perché l'esigenza di questa forte connessione. Il piano della performance sappiamo tutti che cos'è, è la progettazione strategica di un ente, la rappresentazione dell'ente e la pianificazione delle proprie attività, la traduzione di, poi dopo lo vedremo nel dettaglio, delle strategie dell'ente che si dà, degli obiettivi che si dà all'ente e dei risultati che raggiunge. Dunque è un documento sul quale non possono non trovare cittadinanza, connessioni, legami, tutte le attività dell'ente, sia le attività gestionali che quelle tecniche scientifiche e tutto ciò che concerne qualunque tipo di adempimento che l'ente deve affrontare. Questa esigenza perché? Perché sul piano anticorruzione? Perché la corruzione, questo l'ha detto la Corte dei Conti in più documenti, è un costo, è un costo economico, è un costo economico indiretto e non è solo un costo economico nei casi in cui abbiamo l'immagine classica del ponte, dell'appalto eccetera, ma anche un ente come il nostro che comunque fornisce servizi alla cittadinanza, servizi di estrema rilevanza strategica, pensiamo solo a tutti gli interventi che facciamo sul territorio, di monitoraggio, di protezione radiologica, indagini conoscitive al supporto delle amministrazioni pubbliche per interventi di grossa rilevanza scientifica e di impatto sul territorio. Quindi anche noi abbiamo dei fortissimi impatti sulla cittadinanza, su un'utenza, abbiamo dei stakeholder molto diversificati, quindi le occasioni, le analisi delle attività che andiamo a svolgere chiaramente potranno e come poi vedremo hanno avuto, in sé delle fasi che hanno evidenziato anche delle potenzialità di rischio. Stavo dicendo a costi economici, costi economici diretti, indiretti e costi si dice di tipo sistemico, cioè riguardano valori come l'eguaglianza, la trasparenza, la fiducia nelle istituzioni. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che l'interlocuzione con il cittadino, con l'utente, viene compromesso, quindi per l'utente, il cittadino, prendo spunto dall'intervento di pochi minuti fa, anche la non conoscenza può essere determinata da una esigenza di maggiore trasparenza nell'attività dell'entro. Quindi tutti questi aspetti di tipo fortemente pragmatico, oltre tutta quella che è la valenza etica dell'aspetto corruttivo e dunque delle azioni che prevengono gli eventi corruttivi, vanno affrontati e vanno affrontati e rappresentati e recepiti nel piano di azione dell'ente, nella rappresentazione delle attività dell'ente e dunque il piano della performance. Il concetto che viene, è stato esplicitato in delibere dell'ANAC e in documenti prodotti dall'ANAC che hanno ribadito e sollecitato questa esigenza. Vi dicevo che il piano della performance raccoglie tutte le attività dell'ente, perché recepisce, vedete sopra, le linee di indirizzo strategiche, il piano nazionale anticorruzione che in questo tema dà le linee strategiche, la direttiva del ministro che dà le direttive specifiche per l'ente, il piano triennale delle attività di ricerca che dà la strategia in ordine all'attività più specificatamente di ricerca e il piano triennale del sistema delle agenzie che per noi è un altro documento strategico di fondamentale importanza. Questi indirizzi strategici vengono recepiti nel piano della performance come vengono tradotti in obiettivi strategici, in obiettivi operativi e in obiettivi individuali. Il piano della performance, come vedete, non mi soffermo molto, però da questo schema di estrema sintesi vedete come interseca sia il recepimento di tutte quelle che sono le indicazioni del bilancio del piano di prevenzione della corruzione e sia come tutto ciò viene tradotto nel piano della performance, negli obiettivi e viene restituito e verificato col sistema di misurazione e valutazione sia delle strutture e sia dei singoli individui, quindi obiettivi di struttura e obiettivi individuali. Il tutto perché finalizzato e questo è uno degli altri aspetti delle azioni valide in tema di prevenzione della corruzione viene tradotto in una migliore qualità dei servizi perché come abbiamo detto un servizio scevro da possibili eventi corruttivi, quindi scevro da possibili costi ulteriori e illeciti a carico della collettività sicuramente non può che andare a beneficio di una migliore qualità dei servizi. Carta dei servizi, parentesi, approfitto della sede che su indicazione della direzione generale stiamo approntando già è pronta una prima bozza per alcuni processi che saranno per attività, per servizi che saranno anche tariffati, ma qui non mi soffermo, approfitto solo dell'occasione per dire come la struttura che si occupa di piano della performance, come deve anche intersecare, intercettare attività complementari che apparentemente sembrano di altra ragione e finalità ma alla fine tornano sempre nel documento centrale dell'ente che restituisce sia gli obiettivi che si prefigge sia i risultati che riesce a raggiungere. Ho fatto benissimo, perfetto, ho fatto qua. Quindi questa in estrema sintesi, obiettivi strategici dell'istituto tradotti in obiettivi operativi delle unità organizzative, quindi obiettivi di performance, obiettivi individuali cioè dei singoli dirigenti obiettivi di anticorruzione e trasparenza. Cosa vuol dire? Vuol dire che nel piano nazionale, poi nel piano triennale che si dà l'amministrazione per il tramite del responsabile della prevenzione per l'anticorruzione, fissa degli obiettivi, un piano triennale, un piano annuale fissando degli obiettivi concreti per realizzare il piano. Poi adesso vediamo come il recepimento della norma, cioè il piano dell'anticorruzione, le attività anticorruttive devono essere recepite nel piano della performance, ISPRA l'ha tradotto immediatamente inserendo in un'ASA, cioè in un'area strategica, in particolare quella relativa ai servizi strumentali, supporto gestionale, aveva due obiettivi strategici e a seguire un X numero di operativi. Vedete che non li abbiamo scritti per comodità di rappresentazione, però vedete come i servizi strategici e servizi strumentali partecipano di un unico documento che è il piano della performance. Nell'ambito dei servizi strumentali e in particolare nelle aree strategiche che comprendono gli obiettivi strategici relativi a supporto gestionale è stata inserita espressamente, esplicitamente garantire la corretta ed efficace applicazione dei principi di trasparenza, integrità e legalità. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che a questa dicitura di obiettivo strategico a seguire ne sono stati individuati 12 operativi. Andremo a vedere come ai 12 operativi che in realtà coincidono con gli obiettivi operativi puntati sulla trasparenza, ne sono stati previsti altri 5 individuali che attengono più strettamente e all'attività di prevenzione dei fenomeni corruttivi. La scelta dell'ente è stata fatta in questo senso basandosi su un ragionamento, su una scelta di ente abbastanza semplice. Abbiamo puntato di più sugli operativi settati sugli obiettivi di trasparenza perché effettivamente maggiormente legati a quella che è la performance di struttura mentre si è ritenuto più opportuno puntare gli individuali, quelli più strettamente legati alle attività di prevenzione per la corruzione perché l'individuale coinvolge ancora più direttamente il dirigente responsabile della struttura. Però è una scelta. Questa è una prima schermata nel quale rappresentiamo i risultati verificati, consultivati e deliberati a fine del 2014. Cioè noi ogni anno facciamo la programmazione, come abbiamo detto la programmazione della performance recepisce anche la programmazione del piano anticorruzione e trasparenza, la tradotta in strategici, la tradotta in obiettivi, questi obiettivi come ogni anno vengono consuntivati, misurati, consuntivati e poi sono oggetto anche di valutazione della struttura e del dirigente. Vediamo come, non so se si vede comunque, la riga rossa è il target che ci si era prefissi, la riga blu è il valore a consuntivo. Vediamo che alcuni obiettivi addirittura hanno superato il target che ci si era prefissi. Quindi è un segno di particolare impegno sia dei singoli che delle strutture su questa sfida che ci si è proposti. Poi stiamo parlando del 2014, come vedete l'unico obiettivo che è un po' in sofferenza è la messa a punto del sistema di tutela della riservatezza per le segnalazioni di illecito. 2014 la direzione generale congiuntamente alla struttura tecnica di supporto all'OIV, al responsabile dell'anticorruzione, ha esaminato, ha analizzato questa evidenza risultante dai dati di cui l'attenzione comunque già progettata di adottare misure puntate sul fenomeno rilevato. Vorrei fare giusto un intervento al volo per spiegare. Ovviamente in quell'ultima stringa, quella che non aveva raggiunto l'obiettivo, era proprio quella legata all'OVS blowing, che era previsto già che venisse attuato nel 2014 e come poi io scrissi nella relazione, non si riuscì a fare nel 2014 anche per una questione di complessità che obiettivamente richiedeva. Cioè ovviamente era molto più complesso tirare fuori un sistema autonomo, diciamo quindi i di ispra, sulle segnalazioni di illeciti con quelle garanzie rispetto a magari inserire delle clausole e dei contratti. Insomma, quindi quel ritardo, perché poi in effetti è stato realizzato nell'anno 2015, quel ritardo, cioè quel giudizio meno, il fatto di non aver colto in pieno obiettivo, era dovuto al fatto che ci si stava lavorando ma non si era concluso. No, ma mi hai anticipato, ma l'aver evidenziato quel punto puntava proprio a questo. È un lavoro non semplicissimo soprattutto perché è un lavoro che impatta anche su una modifica di atteggiamento delle persone abituate a lavorare correttamente, a modo, senza altro sì, però affrontare questi temi anche in termini di prestazione, di valutazione economica delle attività, di miglioramento dei risultati, anche enfatizzando questo aspetto, è un approccio culturale nuovo. Quindi come tutta l'avventura piano performance 150 è un modo diverso di affrontare il proprio lavoro e quindi quella segnalazione che io sono andata a fare, proprio per motivare e per enfatizzare quello che poi dopo nel seguito è stato fatto, cioè il miglioramento continuo anche dalle verifiche di piccoli scostamenti. Vediamo che poi è stato questo il piano della performance dell'anno successivo che adesso andremo a consultivare. La consultazione del piano anticorruzione andrà di pari passo con la consultivazione del piano della performance e sarà recepito nei risultati del piano della performance. Sicuramente quella evidenziazione, quella riga rossa sicuramente a questo punto avrà ben oltrepassato la riga blu del buon raggiungimento dell'obiettivo e questo dà anche una sensazione, una percezione concreta e dinamica di quello che si fa e di quello che significa scrivere obiettivi, monitorare i propri obiettivi, essere sfidanti. È un momento di divisione tangibile di quello che normalmente, ma in certi casi con estremo sforzo e necessità anche di inventiva come appunto questa iniziativa che poi sarà illustrata da Marco nel suo intervento richiedono. Così è un modo per rappresentarli anche in maniera diversa. Cosa è stato fatto nel 2015? Queste perché le illustriamo qua? Perché anche queste attività sono state oggetto di obiettivi recepiti nel piano della performance. Sono state individuate le aree di rischio, alcune aree di rischio già date perché comune a tutti gli enti. È stato prima fatto un primo lavoro di individuazione di nuove aree di rischio perché? Perché conformate più puntualmente su quelle che sono tutte le attività dell'ente. Le aree di rischio per scelta di questo ente sono state individuate in modo e in maniera da coprire l'intera gamma di attività svolte dall'ente anche per avere appunto una corrispondenza in quelle che poi dopo andremo a trovare nelle attività rappresentate nel piano della performance e in particolare alla ricognizione dei prodotti e servizi che sono stati fatti in occasione di scrittura dei documenti collegati al piano della performance legacy carta dei servizi ma qua non mi ci di lungo. L'area di rischio, per ogni area di rischio ne sono state individuate un X numero di sotto aree, non ve le sto a raccontare perché sono documenti pubblici, sono sul sito quindi assolutamente consultabili a proposito di trasparenza e per ogni sotto area individuati dei processi. Per ogni processo, quindi l'area di rischio, questa è esemplificativa, una non maggiormente o minormente significativa delle altre. Quindi area, sotto area, processi, per ogni processi sono stati individuati i sottoprocessi. I sottoprocessi a loro volta sono stati analizzati sulla base di una tabella di valutazione del rischio. Piccola riflessione, non è stato un lavoro semplicissimo, tutti i referenti, tutti i dirigenti responsabili delle strutture devo dire hanno collaborato in maniera molto efficace. Perché? Perché queste tabelle di valutazione del rischio riportano degli indici che da un lato, uguali per tutti, per tutte le amministrazioni pubbliche, quindi come tutti i tentativi di uniformazione, quindi per assicurare una certa comparabilità dei dati nel mondo degli enti pubblici, incontra poi il limite del ritrovarsi stretto o poco significativo, poco rappresentativo o addirittura per niente e calabile nelle realtà dell'istituto. Non è il caso di analizzarle una per una, però vedete, basate sulla rilevanza esterna, complessità del processo, valore economico, frazionabilità del processo, controlli, per esempio i controlli sono indici molto puntati su quelli che sono i processi tipici più di taglio ente-ministero come tipo di attività, infatti sono state quelle maggiormente, più facilmente calabili nelle aree gestionali in senso stretto. Comunque, in ogni modo, per ogni sottoprocesso tecnico-gestionale che fosse, è stato valutato, analizzato l'attività, la probabilità di realizzazione dell'evento rischioso, il possibile impatto e quindi con quegli indici di valutazione sono stati dati dei valori. Questi valori sono stati oggetto di un calcolo di media. Alla fine di questo lavoro sono stati evidenziati alcuni sottoprocessi con dei valori particolarmente alti e su questi processi, per esempio, ecco bravo, vedi se l'uomo sotto c'è 8.33 e su questi processi, a questo punto, questo è il programma delle attività prossimo venturo e quindi su questi processi già è stata avviata un'azione di analisi ulteriore delle possibili venienze, dei possibili fattori che possono generare condizioni che possono favorire atteggiamenti corruttivi e dall'individuazione del comportamento simmetricamente e conseguentemente le misure più idonee per la prevenzione. Il concetto fondamentale che informa tutta questa attività è che parliamo di rischio, dunque parliamo di prevenzione e parliamo di prevenzione per la riduzione, non ci sarà mai un azzeramento, se no non si parlerebbe di rischio. Queste sono le attività previste per dicembre 2015, quindi la predisposizione del piano della performance che è partita in questi giorni appena ricevute appunto tutte le indicazioni strategiche e direttive, indicazioni del Presidente e quindi scrittura degli obiettivi strategici, predisposizione del piano triennale per la prevenzione della corruzione 2016-2018, quindi la predisposizione del programma triennale per la trasparenza e per l'integrità, la relazione del responsabile di prevenzione e corruzione e questo avverrà a dicembre. Vi preciso a chiusura e a conferma di questa strettissima connessione di tutti questi documenti è che l'OIV dell'ente tra i vari suoi compiti ha proprio quello di verificare la coerenza degli obiettivi fissati dal piano della performance con gli obiettivi fissati nel piano triennale per la trasparenza e per l'integrità. Verifica sia la coerenza sia la significatività e sia quanto essi siano sfidanti o meno concretamente significativi in un'ottica anche di miglioramento. Nei primi mesi di febbraio avremo l'assegnazione degli obiettivi e degli obiettivi più avanti anche individuali a valle della consultivazione delle attività, quindi ci sarà la consultivazione delle attività e sulla base dei risultati, degli obiettivi raggiunti o non raggiunti e quindi dei margini di miglioramento ulteriormente lasciati scoperti, quindi saranno assegnati i nuovi obiettivi. Tutta questa fascia tratteggiata si riferisce alla complessa attività di individuazione di misura e prevenzione per i processi con indice di rischio maggiore, quelli che abbiamo visti esemplificativamente prima, attività che comporterà molto tempo. Solo un attimo rubo di tempo per rendere noto a tutti quanti che il corresponsabile della trasparenza sull'indicazione della direzione generale proprio per favorire un momento maggiore di trasparenza di tutto quello che comunque viene fatto dall'ente sul sito e in termini di comunicazione, si sta cercando di costruire uno strumento di bussola e di orientamento tra le informazioni già esistenti sul sito, come dire, trasparenza intesa anche come agevolazione dei percorsi per raggiungere e trovare informazioni che comunque già sono ma non viste o mal interpretate o mal raggiunte possono avere anche degli effetti come dire distorsivi anche dei significati intrinseci delle cose che vengono comunicate. A te. Bene, grazie Diana.